Il quarto d'ora abbiamo fatto tantissimi tiri in porta, se non sbaglio una ventina. La partita prima l'abbiamo vinto, quindi adesso siamo in un periodo dove stiamo prendendo consapevolezza. La squadra si sta amalgamando bene, perché comunque non dimentichiamoci che siamo quasi tutti nuovi. Per quanto riguarda la mia prestazione, sono contento di aver dato il contributo. Potevo anche segnare, ma contento della vittoria di un assist oggi, quindi va bene così. Le prime sono un pochino lontane, quindi magari inconsciamente la testa si può essere liberata, ma io credo che sia più un lavoro quotidiano col mister che è centrato comunque in testa. Cerchiamo di fare quello che ci chiede, cioè ancora dobbiamo crescere, però ancora mancano tante partite e dobbiamo continuare. Abbiamo avuto un approccio alla partita importante, perché avevamo trovato una squadra che si rendeva subito e partiva forti nei primi minuti, quindi abbiamo preso le misure, abbiamo giocato bene il pallone e abbiamo avuto poi l'occasione giusta per spalcare la partita. L'abbiamo fatto, quindi era importante l'approccio a primi minuti e l'abbiamo fatto. Questo significa che stiamo crescendo tanto sotto tutti i punti di vista, quindi bisogna solo continuare così. Siamo una squadra unita, quindi lavoriamo per la corsa di più del compagno, per aiutare la squadra, sia noi davanti che i ragazzi dietro. Siamo un gruppo unito e il campo secondo me lo sta dimostrando.